Giornata abruzzese per il ministro alle infrastrutture e trasporti Graziano Del Rio che questa mattina ha visitato lo stabilimento della Sevel confermando il completamento della Fondo Valle Sangro e partecipando all'incontro con i vertici dell'azienda produttrice del Ducato che ha visto quest'anno numeri da record in serata la visita sul Mona. Anche qui come da tante altre parti d'Italia, io lo dico spesso, c'è la cosiddetta guerra dei 30 anni sono opere attese da più di 30 anni, declamate, richieste, promesse in realtà nell'ultimo anno e mezzo e anche da quando c'è il governo Renzi abbiamo cercato di mettere in fila le cose e quindi questa realtà infrastrutturale verrà potenziata nel nuovo anno andiamo sicuramente ad aggiudicare la gara per tutta questa Fondo Valle e grazie al lavoro puntualissimo che abbiamo fatto col Presidente della Regione e credo che questa sarà una delle tante opere che da promessa diventa realtà. Ministro, l'agenda Abruzzo è tenuta in primo piano dal governo, ieri è venuto a pescare il primo ministro, oggi lei qui alla Sevel, la settimana prossima ci sarà il ministro Madia. Sì, è il segno di un'attenzione, credo che non ci sia mai stato, l'Abruzzo è un mezzogiorno ancora, ma ormai è fuori dalla crisi del mezzogiorno, è una regione dinamica, in questa regione del mezzogiorno come in tutte le altre regioni c'è una presenza costante del governo, in primis del Presidente del Consiglio che è il Presidente che è stato di più nel mezzogiorno di tutti i suoi predecessori, che ha costruito di più insieme agli enti locali i patti territoriali, quindi credo che questa sia una buona notizia per il mezzogiorno.